ben trovati cari amici su Radio News ventiquattro questa è on air interviste storie tutte italiane a professionisti amatori di ogni settore io sono sempre la vostra Anna Chiara Rubino e oggi cavalcando le frequenze virtuali della nostra emittente radio approdiamo in Campania e finalmente lasciatemelo dire ragazzi per parlare di mozzarella ma che bello è arrivare in campagna e poter parlare con una realtà casearia è un grandissimo privilegio ci colleghiamo nello specifico con Gragnano in provincia della bella Napoli anche se eh l'ospite che sto per presentarvi mi mi informava anche di una di una succursale di un secondo punto venta a Castellammare di Stabbia diamo il benvenuto sulle nostre frequenze ad Armando Mandara in eh in rappresentanza no del caseificio Mandara che porta il cognome di nonno bisnonno chi è iniziato? Sì nonno bisnonno è una storia abbastanza di tradizione buonasera a tutti gli amici in ascolto buonasera salve non vedo non vedo l'ora di sapere di più grazie per l'appunto sì dite no no dimmi dimmi mi stavi ringraziamo per l'invito sì è un piacere grande oltretutto questo è un format che nasce per i professionisti di tutta Italia in questo momento particolarmente difficile anche la radio si è anche la radio si è digitalizzata abbiamo creato un format che fosse social condivisibile che desse a voi sicuramente una una notorietà e una visibilità ma anche a noi invece da informatori l'opportunità di fare tanta sana informazione quindi non perdiamoci in ulteriori indugi ti lascio la parola raccontami di come nasce il caseificio raccontaci la vostra storia sì cercherò di essere breve allora possiamo dire che il casificio ci troviamo noi ai piedi dei Monti Lattari nel parco regionale dei Monti Lattari alle falde del Faito e in una terra la Campania come avete detto tu all'inizio prospera e molto ricca c'è infatti una terra molto importante la Campania e ci troviamo noi il caseificio Mandara che è un caseificio che è stato fondato da più di due secoli fa infatti dalla competenza e dalla passione di mio nonno del mio bisnonno che loro erano riunti di tramonti presso a Gerola e poi man mano si sono un po' trasferiti nella nostra Castellammare e a Gragnano dove ci troviamo attualmente come sede operativa niente mio nonno comunque lui ha continuato l'attività di suo padre infatti era un maestro all'epoca mio nonno era uno dei più importanti operatori proprio di questo settore infatti a Castellammare è stato molto apprezzato proprio dalla popolazione proprio perché è stato uno dei primi proprio a fondare questa attività ci ha sempre creduto come tutta la mia famiglia infatti per noi lavorare il latte è come un rito è un rito che si è tramandato da tanti anni infatti è un rito quotidiano fatto di lunghe attese comunque fatto di un gesto quotidiano produrre la mozzarella che si tramanda da padre in figlio infatti anche papà mi ha trasmesso questa passione questo amore e vedere ogni giorno che quando produciamo questi nostri prodotti è sempre è sempre un'emozione infatti oltretutto c'è è un'attività così radicata nella vostra cultura che indubbiamente c'è sono proprio ragazzi cose tramandate di padre in figlio padre in figlio siamo alla quarta giornata ci parliamo di notte poi comunque è un lavoro che si fa di notte purtroppo è certo e ragazzi siamo a livello di a livello di sacrificio forse superiamo anche il pane superiamo anche il pane a livello di gestione però siamo esatto sì perché comunque oggi c'è la tradizione di all'epoca comunque viene reinterpretata in chiave don moderna ma comunque cioè comunque sono gesti semplici che vengono fatti da anni e senza comunque rinunciare ai gesti quotidiani tradizionali fatti di semplici movimenti e senza rinunciare al gusto e alla tradizione senti a proposito di gusto e tradizione raccontami un po' dei vostri prodotti di punta immagino che sicuramente anche la vostra produzione insomma si evolva sulla base del periodo sulla base delle ricorrenze che ci siano delle specifiche per il periodo invernale per il periodo pasquale sì allora innanzitutto noi selezioniamo il latte che deve essere sempre di prima qualità e comunque lo lavoriamo in base senza metterci conservanti additivi proprio per mantenere inalterati i profumi e i sapori allora sì durante il periodo pasquale abbiamo prodotto diversi prodotti il provoluovo la colomba fatta di pistacchio abbiamo aggiunto proprio alcuni prodotti proprio per esaltare la qualità e per per far sì che soddisfare sempre la gliela infatti oltre alla colomba abbiamo prodotto anche una specie di pastiera fatta di crostata che sia fatta di mortadella pistacchio oppure con prosciutto crudo e rucola e diciamo che abbiamo soddisfatto abbastanza i nostri clienti proprio perché ci teniamo sempre a produrre nuove novità anche a natale comunque abbiamo prodotto il pandoro e il pupazzo di neve e altri prodotti proprio tipici del periodo io invece ti volevo chiedere perché stavo sbirciando la vostra pagina instagram e sono rimasta folgorata dal provoluovo esatto sì è fatto di caciocavallo che i consumatori potevano scegliere sia al pistacchio oppure hanno scelto alla nocciola alle mandorle e e anche il classico e sì è stata un'idea più che altro di mia sorella carmela che lei diciamo va sempre alla ricerca di nuove novità e proprio perché comunque cerchiamo di proporre prodotti nuovi pur mantenendo sempre quelli là tradizionali e cercamo di aumentare un po' oltre alla vendita il periodo e quello che è del covid ma cerchiamo sempre di soddisfare magari nuove esigenze dei consumatori un fidanzato che vuole fare un regalo alla propria fidanzata oppure a un proprio nonno una nonna è bello poi è bello come dire partire da una tradizione immutata perché quella però evolverla ovviamente grazie agli avanzamenti che ci sono al periodo alle esigenze alle richieste io credo che non ci sia niente di più bello per un cliente che vedersi accontentare no accontentato seguito e reso felice in ogni modo possibile soprattutto voglio che una bella mozzarella con una bella mozzarella sì 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 quello è il prodotto di eccellenza della nostra attività e a proposito la lancia lo lanciamo subito dai questo hashtag mozzarella di bufa la campana ovviamente ragazzi siamo a due duecento e soprattutto di latte la vaccino assolutamente sì volevo dire che soltanto mozzarella di bufa la campana c'ha duecentodiciannovemila post su instagram questo per farvi capire la preponderanza della dell'ambito lanciamo anche l'hashtag caseificio mandara dedicato a voi sperando che vi porti tanta 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 fortuna e ricordiamo tutti i vostri canali social siamo su instagram a mandare a caseificio tutto piccolo tutto attaccato siamo su facebook a caseificio mandara c'è il sito web ragazzi www.caseificiomandara.wixsite.com e c'è youtube ovviamente caseificio mandara noi ringraziamo tantissimo armando per essere stato con noi e salutiamo tutta la famiglia mandara che da generazione insomma ci fa mangiare buoni prodotti caseari grazie armando per essere stato con noi è stato un piacere partecipare al vostro programma molto seguito grazie mille un grande abbraccio a lei grazie ciao ciao e per tutti voi che siete in ascolto invece non andate via restate connessi sul radio news 24 questo è sempre on air per nuove storie e nuove interviste insieme ciao a tutti i ciao a tutti i